buona giornata amici di fano tv ben trovati alla rassegna stampa di oggi sabato primo luglio 2023 iniziamo il nostro incontro con l'almanacco del giorno vediamo chi si festeggia oggi è un nome piuttosto inconsueto non ci sono molte persone che ancora oggi lo riportano ma il personaggio è molto noto specialmente per chi legge la bibbia si tratta di aronne aronne fratello di mosè non è frequente che nel calendario dei santi della chiesa cattolica si festeggino personaggi che appartengono al vecchio testamento ma questa volta aronne che fu un grande sommo sacerdote condivise con il fratello mosè tutti gli episodi dell'esodo assume un posto rilevante si confrontò con i maghi del faraone per evidenziare la potenza di dio e la bibbia racconta che fu protagonista anche di eventi prodigiosi la sua vita non fu del tutto esemplare ci furono anche momenti di cedimento ma poi aronne si irravvise e condivise in pieno con il fratello mosè tutta la forza tutta la potenza del signore nel liberare il popolo di dio dall'egitto appunto l'esodo dal dall'egitto fino alla terra promessa vediamo ora le previsioni del tempo tempo leggermente cambiato rispetto ai giorni scorsi questa mattina fa ancora più fresco vediamo che nella giornata di oggi le previsioni dicono che ci saranno nubi in progressivo aumento con deboli piogge specialmente nel pomeriggio rasserena in serata i venti saranno al mattino moderati al pomeriggio deboli il mare è poco mosso mentre le temperature uscideranno tra i 20 e 29 gradi insomma c'è qualche brezza al mattino ma la temperatura rimane presso a poco quella dei giorni scorsi apriamo oggi il corriere no il corriere il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo come l'apertura è dedicata ad un ritorno sul fatto drammatico che si è verificato l'altro giorno sul molo di ponente del porto di fano dove è accaduto un incidente stradale un anziano è deceduto perché investito da un furgone che faceva retromarcia sul molo sapete che il molo è a una larghezza molto molto ridotta e quindi non poteva fare certamente l'inversione ma non poteva nemmeno entrare nel molo perché l'accesso è vietato ai mezzi motorizzati e questo mezzo non aveva alcun permesso e vediamo qui la foto della vittima si tratta di federico pagani l'ottantenne investito in questo incidente in città in furia la polemica per le trasgressioni che vengono abitualmente fatte rispetto alla segnalettica morto sul molo una tragedia annunciata all'indomani dell'investimento esplode la polemica la gente del posto invoca più attenzione per il lido il che vuol dire che occorrono più controlli e abbiamo una testimonianza di vincenzina turiani che era parente del della vittima di questo incidente vincenzina turiani è molto nota in città per i suoi trascorsi politici è stata a suo tempo presidente di circoscrizione della zona del porto e del lido poi ha militato anche nelle forze politiche di sinistra ebbene vincenzina turiani dice che quella era una tragedia annunciata la vittima addirittura era un suo cugino un uomo amante del porto di 80 anni lui faceva pagani di cognome ma la mamma era una turiani come me ha detto vincenzina e poi abitavamo tutti lì vicino nella fila di case di via franceschini eravamo tutti parenti poi siamo cresciuti e non ci si frequentava più tanto come allora ma ogni tanto però ci si fermava è andato morire proprio lì davanti al ristorante che fiorello aveva fatto con la prua della barca di suo padre e il padre di federico pagani si chiamava lotto per vincenzina era uno zio e quindi quasi un destino è andato a morire nei vicino proprio la barca che il padre aveva costruito la cui prua un tempo ora ovviamente non c'era più perché il ristorante poi si è trasformato costituiva uno degli elementi più caratteristici del porto di fano vedere un ristorante con la prua di una barca agli occhi di govia lucarelli assessore al turismo certi episodi non possono più accadere in città come la nostra aprire una riflessione sui luoghi che sono dedicati al passeggio dovrebbero essere inviolabili non ci dovrebbero essere mezzi motorizzati la gente dovrebbe passeggiare tranquillamente senza alcun pericolo purtroppo questo non accade e sull'argomento interviene anche forbici che insiste bisogna prendere provvedimenti provvedimenti più diciamo così più forti più importanti cambiamo argomento vediamo come si parla del successo di un'azienda fanese che ha contribuito pensate ai viaggi sub orbitali il made in fano vola nello spazio la tuta di virtut primo nasce qui forse virtut one non lo so adesso come si può interpretare questa ditta del fanese ha realizzato la prima tuta interattiva per astronauti testata con successo nella recente missione nel sub spazio partita e già rientrata tramite lo space port america in new mexico virtut primo è stata la prima missione sub orbitale italiana ed europea a vedere pubblico e privato insieme nel quadro di una collaborazione tra l'aeronautica militare e la virgin galactic due appunto entità che si sono messe insieme per così programmare questi spazi questi 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 viaggi che possono essere anche di interesse turistico nello spazio dove anzi nel confine tra l'atmosfera e invece lo spazio dove ci si può godere di qualche minuto anche di alleggerimento del peso insomma non c'è la forza di attrazione mondavio 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 è soddisfatta perché questa volta ha goduto di una guardia medica accettabile quasi a pieno regime dice oggi il resto del carlino una notizia importante per gli abitanti della media valcesano non solo dunque per mondavio in questo mese di luglio la postazione di guardia medica di mondavio funzionerà quasi a pieno regime cosa che non accadeva da tempo ebbene dal prospetto sui turni di continuità assistenziale diffuso dal distretto di fano emerge che la postazione mondaviese avrà coperti 36 turni su 41 ovvero l'88 per cento e c'è anche un ulteriore aspetto rilevante la situazione dice infatti è molto chiara perché saranno operativi tutti i turni delle 31 notti nella consueta fascia dalle 20 alle 8 del mattino e tutti e 5 quelli diurni del sabato dalle 10 alle 20 quindi soprattutto di notte è importante avere un punto di riferimento sanitario per i casi di emergenza e poi ci sono anche il servizio è attivo anche nelle giornate di sabato come abbiamo detto dalle 10 alle 20 quindi un arco della giornata piuttosto ampio un fatto di cronaca che è accaduto nella valcesano il marito di una mia amica mi ha violentato e la denuncia di una donna di una una donna che aveva partecipato ad una festa insieme alla sua amica e al marito di questa poi la sua amica con i bimbi ha dovuto lasciare la festa un pochino prima degli altri e la donna che avrebbe subito questa violenza si è intrattenuta con il marito per proseguire la festa quando è stato momento di tornare a casa il marito si è offerto di accompagnarla l'ha fatta salire in macchina lei tranquillamente ha accettato l'invito non aveva alcuna alcun timore dato che conosceva l'uomo da tempo però una volta dentro l'abitacolo quest'ultimo si è fatto più intraprendente e ha cominciato a allungare le mani finché si è fermato in una zona appartata e ha violentato questa donna dicendo intimandole di non dire niente a nessuno in realtà la vittima poi lo ha denunciato lo ha denunciato per violenza violenza sessuale e quindi la questione finirà di fronte ad un tribunale con l'accusa di violenza sessuale entro l'autunno al via i lavori al delle tinte il quartiere di pergola che ha subito molti danni dalla alluvione 3 milioni e mezzo di euro per risolvere le grandi criticità causate appunto dall'acqua entro l'autunno a pergola inizieranno questi lavori molto importanti per risolvere le gravi criticità causate dall'alluvione del 15 settembre del 2022 nel quartiere delle tinte ed è la sintesi che traccia il sindaco simona guidarelli dopo che c'è stato un incontro un incontro assemblea avuto negli ultimi giorni con il vice commissario per il post alluvione delle marche ebbene in questo caso ci saranno interventi decisivi di interventi migliorativi della situazione affinché appunto i danni vengano riparati ad urbino si continua a parlare della esigenza di avere un servizio pubblico di trasporto in centro storico il bus in piazza fino a tardi va ripristinato e questa è un po la richiesta di tutti i residenti di tutti gli abitanti di urbino e quindi evidenziano di fronte al silenzio delle istituzioni evidenziano una protesta la vicenda però non è molto semplice è complicata i mezzi pubblici si muovono male in centro perché i tavolini dei locali invadano le strade quindi bisogna fare una scelta o i mezzi pubblici o i tavolini sulle strade trovare un equilibrio che sarebbe la cosa più intelligente non è però facile e quindi si cerca un po di sollevare la questione per indurre le parti a trovare un accordo vediamo ancora altre notizie sulla pagina dell'entroterra un nuovo sito industriale per urbino proporrà una una operazione da 250 posti di lavoro si tratta di un accordo con una nuova realtà imprenditoriale si tratta della green power system il comune di urbino e questa società hanno firmato la convenzione per la nascita di un nuovo sito industriale h guerra il documento permetterà di attuare il piano particolarizzato relativo alla zona produttiva vicino ai comuni di montecalvo in foglia tavoletto sasso corvaro auditore la convenzione stabilisce le modalità di intervento di realizzazione e gestione delle previsioni urbanistiche cioè quelle che aspettano al comune poi ovviamente spetterà alla società realizzare le strutture e attivare la fase produttiva a caglia a cagli i partiti si mobilitano in difesa della sanità bene l'ospedale celli un tempo costituiva un polo di attrazione non solo per il centro di cagli ma anche per tutta la zona dell'entroterra ora le cose sappiamo come sono andate e quindi la popolazione non si rassegna reagisce si è tenuta in comune una riunione collegiale dei partiti di cagli sul tema della sanità è stata questa l'occasione per condividere un documento comune in vista dell'approvazione del piano sanitario regionale ebbene si evidenzia in questo documento alcune criticità veramente importanti in particolare la mancanta la mancanza scusate la mancanta previsione della deroga per il celli al contrario di quanto invece è stato previsto per l'ospedale di cingoli ed in contrasto con il precedente piano sanitario che vedeva i due nosocomi più quello di sasso colvaro come candidati alla deroga e quindi si insiste perché la regione consideri questa eventualità e poi non trascuriamo invece quello che appare in questa pagina dedicata a pesaro sul resto del carlino perché si parla delle esigenze dei ragazzi i ragazzi d'estate ovviamente vogliono godersi le loro vacanze e possibilmente lo vogliono fare nelle sedi dove abitano senza essere costretti a fare parecchi chilometri per raggiungere località dove ci sono magari delle discoteche dove ci sono dei centri di attrazione di divertimento ecco perché insistono perché anche a pesaro ci si possa divertire in sicurezza pesaro perfetta se avesse i locali dice il titolo cosa vogliono i ragazzi per l'estate adolescenti alle prese con pochi soldi come quasi tutti i ragazzi serve un posto sulla spiaggia economico e facile da raggiungere dove riunirsi e quindi stare insieme e ripeto in sicurezza e qua vediamo alcuni ragazzi che parlano di questa esigenza ad esempio il bikini o il malindia cattolica sono appunto dei centri di attrazione anche per i ragazzi di cattolica e se questo fosse mutuato a Fano o a Pesaro oppure nella nostra costa nella costa marchigiana certo sarebbe l'ottimo il problema è poi rientrare la notte per una ragazza è ancora più difficile perché sapete che in questi tempi non si è più sicuri come un tempo voglio ancora segnalarvi sul resto del Carlino prima di passare al Corriere Adriatico il calo delle presenze del mese di giugno il giugno ormai lo mettiamo in archivio oggi inizia il mese di luglio però non è stato un mese facile per il turismo prima di tutto a causa delle perturbazioni atmosferiche che ci sono accavallate a giorni di tempo buono di tempo sereno però insomma questo non ha permesso a molta gente di venire nelle nostre coste perché la prima cosa che si fa quando uno progetta una vacanza è guardare le previsioni atmosferiche giugno iella ed errori un calo di presenze del 20% è la stima che fa il presidente degli albergatori Costantini che aggiunge sull'alluvione i romagnoli hanno comunicato meglio di noi e anche l'alluvione un po' costituisce un deterrente per le presenze turistiche perché poi la gente che abita fuori regione oltre che alla romagna pensa che anche le marche siano state molto molto danneggiate da quanto è avvenuto e quindi preferiscono preferiscono location più serene magari e più al di fuori di questi problemi e allora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico al Corriere Adriatico si evidenzia in prima pagina di Fano un servizio molto importante che ha tenuto un titolo di merito diciamo così si tratta della Stroke Unit Centro Platinum premiata per la cura dell'Ictus il prestigioso riconoscimento internazionale è stato attribuito al reparto diretto da Beldetta al Santa Croce si tratta del riconoscimento come centro platinum dell'ambito del premio internazionale ESO Angels Award un attestato di qualità nell'assistenza e nella cura delle persone colpite da Ictus una malattia purtroppo che rappresenta la seconda causa di morte è la prima causa di invalidità a livello mondiale e lo è anche nel nostro territorio il riconoscimento ha detto la nuova direttrice dell'azienda sanitaria territoriale Nadia Storti premia la professionalità e la competenza di tutti i professionisti che operano in questo ambito riguardante il paziente con Ictus ischemico in fase acuta e poter usufruire di una Stroke Unit nel momento proprio topico dell'insorgere della malattia è importante addirittura per il salvamento per salvare la propria vita la direttrice dell'AST1 dice che questo appunto riconosce le competenze e la professionalità dei medici del nostro territorio a fondo pagina invece abbiamo l'articolo che riguarda il malattesto a Fano l'iniziativa che ieri è stata così lì per subire gli effetti del maltempo oggi si spera che dovrebbe partire alla grande le previsioni non sono buone, sono incerte anche oggi però insomma ci sono diverse manifestazioni che dovrebbero riportare l'atmosfera del Medioevo nel centro storico di Fano due sono gli appuntamenti più importanti di oggi alle 20.30 verrà la rievocazione del matrimonio tra Pandolfo III e Paola Bianca sulle Sagrato del Duomo e poi alle 22.45 in Piazza 20 Settembre ci sarà lo spettacolo dei giullari del Corvo e poi si proseguirà con i festeggiamenti alla Taverna del Pellegrino in Piazza Andrea Costa dove ci sarà musica, si potranno gustare le specialità del territorio insomma ci si potrà divertire magari vestiti con abiti medievali un altro articolo di apertura riguarda la politica ma riguarda anche le strutture del nostro territorio perché parla dell'ultimazione del interquartieri e dunque si è valicato la fatidica data del 30 giugno che era il termine ultimo per il quale il comune di Fano avrebbe potuto usufruire di un proseguimento oltre al termine che era stato fissato al 31 dicembre scorso per poter realizzare l'interquartieri ebbene il comune di Fano proprio ieri ha pubblicato il bando per l'attribuzione dei lavori dell'interquartieri Gimarra ha pubblicato il bando buste chiuse senza proroga Fanesi supera lo scoglio del 30 giugno la Lega opera da eseguire entro il 2025 chiariamo meglio questo titolo Fanesi il vice sindaco e assessore all'urbanistica dunque riesce a pubblicare il bando degli interquartieri in tempo per poter usufruire della proroga per utilizzare i 20 milioni messi a disposizione dalla regione Marche mentre la Lega dice ma si riusciranno a terminare i lavori entro il 30 giugno del 2025 cioè i tempi sono molto molto stretti ma Fanesi ribatte ebbene se l'inizio dei lavori la proroga per il bando è stata così utilizzata per due volte cioè lo Stato ha concesso la proroga per ben due volte una volta per un anno, una volta per sei mesi è ovvio che l'ultimazione dei lavori subirà la stessa sorte insomma dovrà essere prorogata anche questa per un anno e anche per altri suoi mesi quindi i tempi ci sono tutti per realizzare questo tratto di strada questo secondo Fanesi Azienda al posto dell'ambito Azione e Fratelli d'Italia chiedono lo stop e questa è un'altra polemica si sa che l'ambito sociale numero 6 che riunisce nove comuni è in fase di piena ristrutturazione l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti ha realizzato un progetto che ora viene contestato appunto dalla opposizione in questo caso abbiamo azione rappresentata da Stefano Marchegiani e Fratelli d'Italia dalla segretaria Manocchi i quali chiedono lo stop e poi c'è anche una lettera di rincalzo di 21 associazioni ovvero del mondo, del terzo settore che contesta appunto questo piano che viene realizzato che viene proposto dall'assessorato ai servizi sociali al welfare di comunità a fondo pagina abbiamo l'episodio dell'atto sessuale in auto mi ha costretta e quindi la violenza la denuncia di una 22enne che aveva chiesto un passaggio per rincasare vediamo anche la pagina di Senigallia la truffa al telefono è una sceneggiata l'anziana non a bocca chiama la figlia la voce del finto capitano che informa sul falso incidente e nel sottofondo il pianto di una donna ebbene i delinquenti avevano organizzato tutto a puntino questa truffa ai danni di una anziana signora alla quale si diceva che la figlia il solito discorso era stata coinvolta in un incidente stradale ci volevano dei soldi per pagare la cauzione e quindi sarebbe arrivato un incaricato a ritirare i soldi ma la donna non ha boccato questa volta ha chiamato la figlia e ha scoperto tutto l'inganno ebbene questa era l'ultima notizia a questo punto io mi fermo e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 vi auguro un buon weekend sperando nel vil tempo e ovviamente anche una buona giornata grazie per l'ascolto a risentirci